Contro il dissesto idrogeologico piantiamo gli alberi. E' questo l'obiettivo del progetto Life Terra promosso da Lega Ambiente che nella città di Teramo ha messo in atto la piantumazione di alberi nella zona di Via Acquaviva nel quartiere Gammarana. Presenti all'evento gli alunni della scuola d'Alessandro, il comitato di quartiere Gammarana, Pro Natura Laga e Rifiuti Zero Abruzzo. Circa una quarantina le piante messe a dimora tra tigli, noccioli e altri tipi di arbusti. Ha un valore educativo e anche simbolico perché loro così possono in qualche modo pensare di curare gli alberi che stiamo piantando questa mattina. E questo progetto è un progetto di Lega Ambiente nazionale che sta partecipando a un progetto europeo, Life Terra, e pianteremo milioni di alberi in tutta Europa. E noi quindi qui a Teramo facciamo la nostra parte e speriamo appunto che gli studenti della scuola vicina saranno i guardiani di queste piante. L'iniziativa inizialmente prevista per il 26 novembre e poi rinviata a causa del maltempo, rientra nel programma per la festa dell'albero 2022. Continuiamo in questo percorso che abbiamo già iniziato nel giorno della festa dell'albero, un progetto importante portato avanti con Lega Ambiente, abbiamo partecipato a un bando e intanto stiamo andando avanti con la pentumazione, ovviamente teniamo conto delle indicazioni della zona dove andiamo ad andare a piantumare e poi teniamo conto anche di mettere piante mellifere che quindi verranno nella direzione giusta di favorire l'imbollazione delle api. Quindi piano piano dobbiamo andare in questa direzione, abbacchiamo un albero e dobbiamo ripiantare due. Vedere un albero è come nascere qualcosa di nuovo, questo luogo si presta, è un'attenzione importante, quello che ci preoccupa comunque nel tempo sono piante che vanno manutenute, quindi anche un impegno da parte nostra come associazione di quartiere, soprattutto nei periodi in cui c'è bisogno di acqua, di impegnarci a mantenerli in maniera adeguata affinché non muoiano immediatamente.